Già prima del 75 vi erano a Torino moltissimi collettivi di donne, collettivi femministi, che parlavano al loro interno di sessualità, di aborto, di anticoncezionali. Fu una vera e propria rivoluzione questa per le donne perché bisogna ritornare a cos'era la situazione italiana in quel momento. Fino al 71 era proibito pubblicizzare gli anticoncezionali, la Chiesa Cattolica ne vietava ufficialmente l'uso, i ginecologi non potevano prescrivere la pillola anticoncezionale, gli altri anticoncezionali praticamente non si conoscevano, inoltre l'aborto era punito perché reato contro la stirpe. L'unico quindi contraccettivo esistente era il preservativo. Quindi ritornando alla nostra rivoluzione, perché la definisco così? Perché finalmente come donne potevamo parlare di questo, ma soprattutto era importante durante le nostre discussioni, emersa questo, trovare un luogo pubblico in cui le donne potessero accedere alla contraccezione in modo sicuro e anche per l'aborto, questo, perché era assolutamente importante che le donne non morissero più di aborti fatti clandestinamente e in modo anche terribile, tipo ferri da calza o altre cose che non sto a ricordare. In questo contesto la Casa delle Donne appoggiò i collettivi che iniziarono nei vari quartieri ad aprire i consultori autogestiti dalle donne. Il primo nel 1975 fu quello di Barriera di Milano, gestito appunto da un collettivo di donne e si voleva sperimentare proprio come doveva essere un consultorio per le donne. un consultorio in cui le donne avessero la parola e che ci fossero tutte le informazioni che loro richiedevano sia riguardo al proprio corpo che riguardo gli anticoncezionali o in estremo anche all'aborto. Entriamo in questo consultorio autogestito delle donne, come funzionava? Allora innanzitutto punto fondamentale per noi era la previsita. Perché? Perché tutte le donne che arrivavano si trovavano, c'era praticamente una piccola riunione in cui ci si confrontava su problemi con gli uomini perché questi emergevano, la sessualità è comunque fatta con gli uomini nella maggior parte dei casi e quindi problemi di anticoncezionali, di aborto, di uomini che non volevano che le donne usassero gli anticoncezionali e neanche loro usavano il preservativo. Quindi il ricorso molte volte all'aborto, quindi dolore, dramma. Non solo, ma mi ricordo che io ero nel consultorio della Falchera perché poi tra l'altro dopo questa prima esperienza in tutta Torino praticamente vengono aperti dei consultori autogestiti dalle donne e dicevo appunto alla Falchera avevamo appeso anche dei cartelli con l'apparato genitale femminile maschile e le donne rimanevano molte volte a bocca aperte perché non sapevano di essere fatte così. Non solo un'altra richiesta che veniva fatta era vogliamo avere informazioni sulla pastiglia cioè la pillola anticoncezionale che allora veniva chiamata dalle donne proprio in modo molto semplice così. Dopodiché questo confronto quindi questo dialogo riusciva a dare anche forza alle donne a capire meglio e successivamente andare alla visita con delle richieste da fare al medico forse anche più chiare e avevano anche più sicurezza. La visita dico fra parentesi che nel nostro caso trovare dei medici disposti a fare un'esperienza di questo genere quindi di visite diverse con le donne un rapporto diverso con la donna fu abbastanza difficile perché innanzitutto era anche un mettersi a disposizione gratuitamente delle donne quindi non era semplice ma anche l'altro elemento era che non dovevamo avere delle persone contro l'aborto perché nei consultori si parlava di aborto e si affrontava questo grave problema. Ritorniamo alla nostra visita che veniva fatta in questo modo quindi con molte spiegazioni richieste da parte delle donne ma l'elemento più importante che ha portato al superamento del trauma del rapporto con il ginecologo fu la visita collettiva ovviamente se la donna era d'accordo entravano anche le altre e si faceva questa visita insieme. Questo ha proprio aiutato specialmente le donne più semplici eccetera a superare il trauma proprio della paura, la vergogna di andare a farsi visitare dal ginecologo. Non solo ma dopo la visita le donne tornavano al consultorio anche se non avevano più bisogno della visita perché era diventato un luogo di incontro del quartiere. Siamo nel 1975 passa la legge nazionale dopo tutto questo nostro fare passa la legge nazionale per i consultori, i consultori oramai sono una realtà autogestiti sempre, sono una realtà nazionale, il coordinamento dei consultori di Torino chiede un incontro a Bologna italiano, da questo incontro scaturirà poi una mega manifestazione a Roma, è la prima volta che le donne parlano di aborto in piazza, una manifestazione di sole donne sia per l'aborto ma anche per la propria autodeterminazione rispetto alla sessualità e si chiede l'applicazione della legge a livello regionale dei consultori per la contraccezione. Dopo questa enorme manifestazione iniziano a Torino i rapporti con il comune perché il comune presenta finalmente con la regione una piattaforma per i consultori. Noi come coordinamento siamo andati a confronto con la nostra piattaforma, ovviamente c'erano delle diversità ma l'elemento su cui noi abbiamo puntato maggiormente era che i consultori dovessero essere pubblici, gratuiti ovviamente e non dati assolutamente in gestione ai privati. Ci doveva essere un controllo anche da parte delle donne rispetto all'operato delle persone che vi lavoravano, si sono chiesti anche delle corsi di formazione per i lavoratori dei consultori e tutto questo poi scaturirà nel 1976 con la legge regionale sui consultori. Io ho iniziato a lavorare nei consultori familiari di Torino a settembre del 79 e quando io sono arrivata il grosso del lavoro era già fatto perché il comune di Torino aveva aperto i primi consultori intorno al maggio del 78, quindi un anno e mezzo prima. A livello nazionale c'era stata la legge nel 78 194 che regolamentava il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza e quindi quando io sono arrivata fresca di scuola appena finita la scuola da infermiere professionale ho trovato un bel lavoro già avviato. Il mio posizionamento in consultori è stato intanto di osservare, ascoltare e cercare di capire perché io molto giovane c'erano dei medici, ho iniziato a lavorare a Valletta per un breve periodo e poi sono stata destinata a Nizza Millefonti, ho trovato dei medici diversi però che già avevano fatto un grosso lavoro con le donne del quartiere e con le donne che facevano volontariato presso il consultorio. Comodalità diverse perché a Valletta per esempio c'era una donna del quartiere che veniva quasi tutti i giorni quando c'era l'attività di consultore, la presenza del medico e quindi per lo più anche appuntamenti ad accogliere in sala d'attesa le donne per favorire lo scambio di esperienze, per far uscire le problematiche importanti, per stimolare la conversazione sulla contraccezione, sull'aborto, sulle esperienze di vita. A Nizza Millefonti non era una persona sola, era un gruppo di donne che cercava di portare un pochino avanti il discorso della previsita inteso come di nuovo un gruppo che stimolava la riflessione su questi argomenti. Il mio lavoro era molto di osservazione anche perché ho iniziato praticamente da sola in sostituzione di colleghe che erano in ferie e quindi davvero era un grosso lavoro di ascolto e di attenzione, non che sia diverso adesso perché l'ascolto deve essere comunque la parte più importante, però ho davvero imparato tanto dai colleghi medici, dalle donne che facevano volontariato e poi dalle persone che arrivavano in consultoria. Dopodiché i consultori che erano gestiti dal comune sono passati, diventati una realtà della sanità pubblica con l'istituzione delle ASL. Negli anni pian piano questo ha portato anche proprio a una modificazione nella strutturazione perché forse prevale di più l'aspetto sanitario. Abbiamo assunto come consultori una grossa fetta di lavoro anche degli ambulatori di ginecologia e man mano che si andava avanti, per esempio, è diventata di competenza dei consultori anche l'assistenza alla gravidanza fisiologica. La popolazione femminile, che è quella che prevalentemente utilizza i consultori familiari, è senz'altro aumentata rispetto ai flussi migratori. Abbiamo assistito in questi ultimi 10-15 anni a un ingresso di immigrati. Il consultorio si occupa e accoglie le stesse a prescindere dalla loro regolarità sul territorio, per ricordare anche l'ultimo fenomeno dei profughi che nella mia provincia di Alessandria ha una consistenza numerica rilevante, ma anche la stessa popolazione di immigrati nella provincia di Alessandria è significativa e registrava proprio che è una fetta di popolazione che utilizza moltissimo il consultorio. Quindi il consultorio familiare è un servizio che in questo uso conferma comunque la sua natura di servizio rivolto di bassa soglia, di libero accesso, di accoglienza e di un concetto di salute che non è a tutto tondo come la legge 405 ci insegna, rivolto a un'attenzione della salute della donna ma nel suo contesto relazionale, sociale e familiare. Quindi l'immigrazione porta con sé tutte le problematiche culturali e gli operatori del consultorio hanno dovuto in questi anni riaggiornarsi, rivedersi, rimodellarsi e pur mancando in molti servizi, purtroppo la multidisciplinarietà, la presenza dei mediatori che non vuol dire che sono completamente assenti, va sempre ricordato comunque questo baluardo che abbiamo nei consultori di attenzione alla persona che per le donne immigrate diventa un punto di riferimento fondamentale per i loro bambini. Allora io mi sono laureata nel 2011, nel pieno del periodo drammatico che ancora oggi viviamo per l'occupazione giovanile, avevo l'esperienza delle ragazze laureate qualche anno prima che faticavano a trovare lavoro e quindi mi sono laureata con la consapevolezza probabilmente di non iniziare a lavorare nell'immediato. La speranza e l'obiettivo di tutto era in primis quello di trovare un'occupazione, di iniziare a sperimentarci nella nostra professione in autonomia per cui avrei accettato qualsiasi tipo di incarico. In cuor mio in realtà fortemente desideravo sperimentarmi come ostetrica sul territorio ma avevo un po' messo da parte questa possibilità non pensando ecco di averne avuto subito l'occasione. Invece l'occasione arrivò perché sei mesi dopo la laurea in una delle tante agenzie interinali in cui mi ero scritta feci il colloquio e scelserò proprio me. Ad oggi sono tre anni e mezzo che lavoro qui nei consultori familiari. Perché fortemente desideravo il consultorio? Perché in primis era un grosso buco nella mia formazione professionale. Credo che il tirocinio nel percorso universitario riservi troppo poco spazio all'attività sul territorio. Facciamo una buona esperienza ricca a livello ospedaliero ma se pensate una studentessa ostetrica trascorre in un consultorio un mese di tirocinio nel suo percorso universitario tra consultorio familiare e pediatrico. Credo che questo non sia sufficiente per poter godere appieno ed entrare appieno nella realtà del consultorio. Credevo di avere molti più strumenti per assistere una donna al parto una volta laureata che poterla seguire nella sua gravidanza, seguirla nel suo dopo parto, puerperio, effettuare una buona consulenza contraccettiva. Tutti questi pezzi mi mancavano e credo un po' per volta in questa esperienza di averli in parte acquisiti e di continuare ad acquisirli. Inoltre credo che quello che mi ha dato l'esperienza del tirocinio è stato l'annusare il profumo della bellezza e del valore che per me ha il lavoro in consultorio. Bellezza perché amo questo lavoro e credo di farlo tutti i giorni con passione. Valore perché, come so dalle colleghe che lavorano da più anni e come abbiamo sentito in altre storie, per me sono molto fiera di lavorare in un luogo che è stato creato dalle donne per altre donne, per rivendicare i propri diritti, affermare le proprie scelte su se stesse, sul loro corpo e sul loro futuro. Dall'altra parte il consultorio perché ho scelto di fare l'ostetrica per lavorare sulla prevenzione e sulla promozione della salute e per me il consultorio è la massima espressione di questo. Tutti i giorni cerchiamo di lavorare sulla prevenzione e sulla promozione della fisiologia. Inoltre è il luogo in cui credo che l'ostetrica possa lavorare maggiormente in continuità dell'assistenza, che ormai è alla base di qualsiasi indicazione scientifica, ma per me è la base del mio lavoro se devo pensare di costruire degli interventi che abbiano poi un'efficacia, di poter lavorare sulle risorse proprie di ogni individuo, di ogni donna, di ogni coppia e di ogni famiglia.